ben trovati per l'ennesima puntata di talk sicilia e come vediamo dal nostro titolo che abbiamo dato alla trasmissione quindi crisi e caro bollette in sicilia abbiamo come ospite che da sin da subito ringraziamo per la sua disponibilità il numero 1 della cisl in sicilia il segretario generale sebastiano cappuccio che sicuramente ci potrà dare un po il termometro della situazione economico sociale dell'isola in una in un periodo decisamente molto difficile che stiamo attraversando e non solo nella nostra sicilia sebastiano cappuccio ben trovato e ancora grazie per la sua disponibilità buongiorno e grazie a voi bene io inizierei con una domanda che molti giovani soprattutto si pongono il sindacato oggi in una società dove il lavoro e la precarietà domina cosa possiamo dire cioè oggi com'è cambiato il sindacato rispetto agli ultimi venti trent'anni segretario guardi io la ringrazio per la domanda e le dico che pensiamo e penso che come dire ci sia un grande bisogno oggi come sempre dell'azione del sindacato siamo in una fase molto difficile complessa non semplice e noi pensiamo che una fase come questa va affrontata cogliendo le opportunità di questo momento pensiamo che ci sia bisogno di grande responsabilità di una grande partecipazione proprio per affrontare le questioni di problemi e di una grande coesione sociale e questo nell'interesse generale per mettere al centro come sindacato il bene comune le persone e soprattutto quelli che sono i problemi del lavoro agganciandoli ovviamente alle questioni più delicate che stiamo affrontando abbiamo davanti in questa fase grandi risorse mi riferisco alle risorse che ci sono in campo dal piano nazionale di resilienza i fondi comunitari europei abbiamo una grande opportunità quindi di rilancio secondo noi tutto questo va affrontato mettendo al centro un grande protagonismo sociale la centralità appunto della persona per quanto ci riguarda la contrattazione e partendo proprio dal lavoro e come affrontiamo le evoluzioni i cambiamenti che ci sono nel mondo del lavoro e li colleghiamo ad un progetto di rilancio in questo caso della regione ma più complessivamente del paese quindi mi scusi dato precarietà quindi questo discorso di contratto di lavoro quindi precarietà lo possiamo dare ormai in questa nuova era è per scontato c'è ormai il contratto di precarietà non è più un come dire un momento una fase ormai rientra nella quotidianità questo lo possiamo certificare segretario no guardi il tema sono due uno il tema della precarietà la precarietà va affrontata e va come si suol dire stabilizzata il termine stesso rendere tutto precario non giova e non aiuta a costruire un percorso nuovo altro tema è quello nel mondo del lavoro legato alle flessibilità che vanno affrontate negoziate contrattate rispetto a un quadro però divisione più ampia del mondo del lavoro stesso quindi sono due questioni differenti a tal proposito noi siamo anche in una fase politica siciliana molto particolare perché è un inizio di legislatura quindi si presume che abbiamo cinque anni davanti con una nuova amministrazione appena eletta con assessori appena insediati e non c'è dubbio che il sindacato come la società e i cittadini tutti hanno di bisogno di interloquire con gli amministratori voi avete ovviamente dato il buon lavoro al governo e al governatore schifani e cosa vi aspettate cioè i temi sono tanti cosa vi aspettate da questo governo siete fiduciosi e pensate che qualche novità potete mettere sul tavolo per dare slancio cosa possiamo dire segretario guardi le dico subito innanzitutto noi abbiamo dato il buon lavoro come giusto che si faccia con un governo appena eletto siamo usciamo da una campagna elettorale per la verità troppo gridata e poco di merito sulle questioni tuttavia abbiamo un nuovo governo regionale eletto da tutti i cittadini auguriamo buon lavoro al governo regionale ma ovviamente partendo dalla premessa sulla domanda che lei mi ha fatto prima noi pensiamo che ci sia bisogno con le condizioni con le complicazioni con le difficoltà che ci sono in atto di avviare un confronto importante con al centro appunto le parti sociali le imprese per fare in modo di tracciare un percorso di responsabilità di partecipazione noi diciamo e di coesione sociale ridisegnare un assetto in questa regione che noi riteniamo debba essere fatto proprio per affrontare anche velocemente le sfide che abbiamo davanti e le complessità che abbiamo davanti noi quindi abbiamo già richiesto al governo regionale di avviare un tavolo di confronto quindi attendiamo una convocazione da questo punto di vista e pensiamo che in quel tavolo bisognerà non solo ragionare più complessivamente di quelli che sono i temi da affrontare per la verità tanti e tutti nessuno escluso e da lì partire per un come dire vero confronto di partecipazione ovviamente ciascuno assumendo le proprie responsabilità e avanzando le responsabilità del proprio ruolo per dare gambe a una possibilità che noi uspichiamo sia abbastanza concreta di rilancio di questa regione segretario la famosa domanda di un milione di dollari un punto da mettere subito sul tavolo di schifani come come lo potremmo sintetizzare guardi i punti sono tanti ma io dico con molta chiarezza noi abbiamo dobbiamo partire dalla centralità del lavoro e quindi del mondo del lavoro delle persone come questo può contribuire alla ripresa più complessiva di questa regione partire dal lavoro significa affrontare sia le emergenze e le precarietà ma significa anche darsi una prospettiva ed è chiaro che per far questo bisogna poi affrontare man mano gli altri temi che ovviamente stanno accanto non solo al tema del lavoro ma partendo dal lavoro al rilancio più complessivo della regione cioè noi abbiamo chiesto appunto questo confronto bisogna partire dal lavoro ma sono tanti altri temi all'interno del mondo del lavoro e all'esterno che dobbiamo però possiamo mettere come priorità numero uno lavoro assolutamente di lavoro segretario ci sono diverse vertenze in sicilia ovviamente purtroppo di cui una in questi giorni domina le pagine della cronaca e tiene sospeso quasi 10 mila persone per tutto il pollo produttivo ben intuito che mi sto riferendo alla luco il di priolo ovviamente il giorno 5 c'è il famoso embargo che dovrebbe un po e chiudere i rubinetti del greggio il governo meloni attraverso il suo ministro urso si è già espresso in merito ci sono un paio di punti come si so dire di ipotesi sul tavolo di cui anche la nazionalizzazione però lo stesso urso a quanto pare le ottime notizie sono che a metà dicembre si ci dovrebbe ritrovare attorno a un tavolo con tutti gli attori per capire un po come si dice che fine dobbiamo fare detto questo cosa succede il cinque l'embargo a metà dicembre il governo si riunisce voi che siete i protagonisti sicuramente di questa vicenda in sicilia cosa possiamo dire ai ai lavoratori che aria tira segretario ma guardi intanto noi abbiamo posto questa questione al centro che non è soltanto una questione del territorio assolutamente sì anche una questione regionale ma è una questione nazionale infatti scusi se la interrompo lo stesso ministro lo ha sottolineato quindi questo dovrebbe essere fra virgolette non dico una garanzia ma un qualcosa di sostanza più rassicurante se fosse una cosa locale ovviamente i termini sarebbero diversi prego guardi intanto ripeto sulla questione nazionale è chiaro che stiamo parlando di quale politica industriale in questo caso della chimica il governo intende affrontare complessivamente nel paese peraltro con una ricaduta importante in questa regione dove lo stabilimento di cui parliamo è uno degli stabilimenti più importanti del paese ed europa e questo insomma è un dato di fatto da questo punto di vista noi abbiamo messo in campo una forte mobilitazione a sostegno di questa vertenza giorni fa come ben sapete si è manifestato in quell'area primo perché quel territorio l'industria di quel territorio oltre che un problema della sicilia del paese rappresenta oltre il 50 per cento del pil di quel territorio ma rappresenta una parte importante del pil di questa regione abbiamo avuto il confronto con il ministro urso personalmente ho partecipato e in quel confronto ci sono state date intanto alcune tra virgolette garanzie la prima per quanto ci riguarda come si affronta l'emergenza il governo ha sostenuto che riuscirà ad andare oltre il 5 quindi non dovrebbe esserci questa condizione immediata di chiusura tuttavia il problema rimane perché è quello quindi la proroga è quasi certa guardi la proroga era stata già sancita dal governo che aveva offerto una condizione l'europa di sostegno rispetto al al tema che è legato a come le banche che hanno avuto l'embargo rispetto alla crisi russa ucraina riescono ad approvvigionarsi dal punto di vista economico questa questione ovviamente ancora in fase per essere affrontata quando le banche per la verità non si sono presentate neanche all'incontro ma il ministro ha sostenuto di intervenire in modo più deciso per garantire questo tipo di sostegno ma è chiaro che c'è in quell'area anche e in sicilia una prospettiva più ampia attorno a quell'area come dire sta attorno un indotto che riguarda oltre 10.000 persone che ci lavorano imprese di industria importanti è una delle principali sostegni di quell'area e della nostra regione e quindi c'è una questione anche legata a quale prospettiva non ipotetica cioè ma oggettiva di quell'area c'è un tema anche legato al sistema delle acque in quel territorio che ha determinato anch'esso un come dire amplificarsi della difficoltà si sta cercando di risolvere anche quella questione ma bisogna fare in modo che il governo nazionale e il governo regionale per la propria parte era presente all'incontro anche il presidente della regione che ha dichiarato di sostenere il percorso ma bisogna farlo con incisività e con velocità perché si tratta di una questione molto ma molto delicata ci si è dati appuntamento ad un ulteriore incontro di merito di dettaglio con delle risposte c'è stato detto che saranno date in modo chiaro rispetto alla difficoltà di cui parliamo verso metà dicembre quindi noi auspichiamo che queste settimane servano per da una parte tamponare ma dall'altro offrire una prospettiva di rilancio che secondo noi va affrontata e discussa con tutti gli attori principali partendo dal sindacato brevemente la nazionalizzazione è un'ipotesi per potrebbe essere interessante segretario guardi è un'ipotesi che il governo ha messo in campo va discussa per quanto ci riguarda bisogna comprendere nazionalizzazione un termine molto largo poi bisogna capire nel merito come si intende affrontarla e questo è tutta un ragionamento ovviamente una partita più nazionale ma che riguarda anche un grande confronto con le parti sociali con il sindacato per capire quale prospettive quali garanzie e soprattutto quali tutele vere occupazionali e di rilancio di quel territorio il carro bollette segretario o il governo meloni ha stanziato con la manovra che è uscita nei giorni scorsi attenzione quasi due terzi della della finanziaria quindi una bella somma in sicilia che lei ha come si suol dire il termometro ai noi delle difficoltà che le aziende che le famiglie stanno vivendo come arriverà questo flusso di denaro come come per dare un po qualcosa di concreto agli interessati si potrà muovere c'è una concertazione con il governo regionale come funziona allora guardi rispetto alla manovra la manovra è messa in atto in questi giorni per quanto ci riguarda la stiamo valutando nel merito posso dire tranquillamente che noi abbiamo apprezzato alcuni interventi della manovra legati all'emergenza in questo caso anche rispetto al carro bollette ma pensiamo che bisogna rafforzare l'impostazione come dire espansiva di questa di questa manovra e sostenere ancora di più i redditi e i salari e il lavoro quindi siamo in una fase come dire di avanzamento detto questo noi riteniamo che anche su questo tema che è un tema che viene affrontato complessivamente a livello nazionale per quanto ci riguarda anche il governo regionale potrebbe fare la sua parte noi sappiamo bene che esistono in questa regione tuttora in corso temi legati al bilancio e quindi ai contenuti economici legati a una manovra che anche il governo regionale sta facendo ma pensiamo che al di là di questo ci siano le condizioni proprio attenzionando in modo dettagliato i fondi esistenti sul tema dell'energia che sono tantissimi parte dei quali sono già impegnati parte dei quali sono non spesi e parte dei quali sono in fase di riprogrammazione ecco per questo c'è bisogno di un ragionamento di insieme che potrebbe consentirci di aggiungere ai temi legati al governo nazionale alcune questioni sulla sicilia faccio presente che nella nostra regione il tema del caro bollette come ahimè purtroppo su tante altre questioni per effetto del grande livello di povertà e di difficoltà delle famiglie dei pensionati e dei cittadini di questa regione che è più ampio e più forte rispetto alle altre regioni richiede un'attenzione più specifica certo quindi diciamo che è dato che sicilia urge in buona sostanza lanciamo questo appello giornalisticamente urge questo incontro col governo a questo punto assolutamente dato che c'è il tema ovviamente anche del caro bollette e vogliamo un po di ottimismo mi consenta la considerazione ponte sullo stretto non si può non parlare di ponte sullo stretto sia per la cronaca sia perché a quanto pare dopo 50 anni forse fra un paio di anni dovrebbero aprirsi i cantieri e inutile dire che voi come sindacato vedete nell'operazione molto interessante sia dal punto di vista operativo nel senso di lavoro ma anche di sviluppo futuro la ciz siciliana come ha accolto perché già la mossa concreta c'è stata col consiglio dei ministri che ha ridato vita alla società ponte sullo stretto che è quella che poi operativamente avvierà la macchina dei cantieri segretario cappuccio ma guardi il tema del ponte sullo stretto noi da sempre abbiamo detto che un'opera assolutamente importante che andrebbe realizzata per la verità in questa regione nel disco in questo paese ne discutiamo da decenni ovviamente con alterne fazioni con noi per conto ai contoni assolutamente molte volte anche esasperati il tema 1 è una struttura importante per il paese e per la verità per l'europa completa un corridoio importantissimo è chiaro che non è la panacea di tutti i mali è assolutamente un'opera che secondo noi va realizzata e che consente realizzarla di affrontare anche il tema delle infrastrutture in questa regione che va messo al centro di una delle discussioni che noi porremo al presidente della regione è uno dei temi che abbiamo da tempo posto anche al governo precedente lo abbiamo posto con il merito e cioè essendoci delle grandi risorse proprio sul tema delle infrastrutture che partendo dal piano razionale di resilienza nei sei punti fondamentali ne danno una direttrice importante ci sono delle risorse importanti bisogna impiegarle per far sì che le infrastrutture di questa regione siano all'altezza delle questioni che dobbiamo affrontare faccio presente che il tema infrastrutturale è un tema che si tira dietro non solo il tema più complessivo dello sviluppo ma anche il tema più complessivo dello sviluppo in tutte le altre aree non si può parlare di sviluppo nell'agroalimentare se non ci sono infrastrutture non si può parlare dello sviluppo del turismo se non ci sono porti aeroporti strade e così via di seguito non si può parlare di una crescita di uno sviluppo delle aree interne in questa regione se non ci sono infrastrutture adeguate quindi viabilità secondaria collegamenti di primarie non si può parlare di collegamenti importanti anche con le isole noi peraltro lo siamo già di per sé se non ci sono le infrastrutture cioè il tema delle infrastrutture è uno dei temi centrali per lo sviluppo e la crescita di questa regione per far questo occorre non solo sul tema delle infrastrutture ma noi diciamo sul tema più complessivo del piano nazionale di resilienza sulle ricadute che questo ha in termini di investimenti in questa regione avviare un confronto in cui si mettono al centro le opere da realizzare i tempi con le quali si realizzano i percorsi da seguire e a questo per quanto ci riguarda però su tutte le risorse del piano nazionale di resilienza si mette insieme un grande patto di legalità in cui si consente che tutte le risorse arrivino fino all'ultimo euro a destinazione rispetto alle opere e segretario non so se lei d'accordo io non vorrei passare per ottimista però io sono nella convinzione che molto spesso si è sempre lamentato del ponte che prima occorrono le infrastrutture più gente poi ponte io sono di un avviso non so se lei come sindacato me ne dato io sono sono convinto che il ponte sarà determinante per andare a sviluppare ancora le arcaiche infrastrutture che abbiamo perché non si può fare un ponte e rimanere in maniera infrastrutturale con la pessima viabilità che abbiamo quindi potrebbe essere veramente la volta buona che il ponte dia come si può dire la svolta alle infrastrutture siciliane o no secondo lei guardi sì in linea come dire non solo teorica ma anche pratica nella realizzazione però c'è una questione dobbiamo cercare di evitare di ragionare sempre in prima una cosa e poi un'altra questo è un tema fondamentale il ponte secondo noi è un tema che va affrontato perché ne va del rilancio di questa regione ma contemporaneamente da subito bisogna partire con tutto il riassetto delle infrastrutture porti aeroporti ferrovie strade secondarie nella regione ci sono i fondi ci sono le condizioni le questioni devono ovviamente mi rendo conto delle tempistiche ma devono essere assolutamente complementari quindi tradotti in sintesi sulla sul tavolo ci deve essere ponte e infrastrutture il ponte c'è già sul tema nazionale se quello non è un problema le infrastrutture in questa regione devono partire su ritorniamo a chiamare il tavolo di schifani questo assolutamente sì abbiamo due minuti segretario io gradi dei che li dedichiamo al pnr perché nella sostanza è una un acronomo che ormai è sulla bocca di tutti ne facciamo uso forse spropriato anche noi della stampa però il punto è uno non si ci sono i soldi fiumi di danaro ma i soldi si possono spendere se ci sono i progetti ovviamente perché se non c'è il progetto i soldi rimangono in cassaforte si è sempre detto e si continua purtroppo a dire che i problemi sono appunto negli enti locali nella progettazione il governo regionale schifani a quanto pare sta creando se non l'ha creato una task force come vedete voi sindacato questa realtà che poi è quella pratica del progetto in sé dell'architetto dell'ingegnere che se non c'è il progetto segretario possiamo fare tutte le filosofie di questo mondo come lo vede questo guardi noi l'abbiamo detto chiaramente il tavolo di governance sulla questione delle risorse del piano di resilienza è importante per l'indizio e le direttrici ma accanto a questo occorrono un'altra serie di passaggi uno dei temi centrali che da tempo chiediamo e abbiamo chiesto di affrontare il governo precedente è quello di come sosteniamo tutto questo con una riforma della pubblica amministrazione che è iniziata in tutto il paese che qui ha avuto un ostacolo legato soprattutto ad una condizione di un accordo stato regioni che non ha sbloccato la presenza le assunzioni e la come dire funzionalità della pubblica amministrazione in questa regione non è colpa ovviamente della pubblica amministrazione ma bisogna sbloccare tutto questo e mettere enti locali comuni e pubblica amministrazione nelle condizioni di sostenere tutto questo per fare questo occorre un impegno forte del governo regionale ed è uno dei temi e allora un appello al governatore schifani chiamiamo i sindacati cerchiamo di fare bene e presto perché la sicilia ne ha tanto di bisogno grazie al segretario cappuccia ancora una volta per la sua presenza e a voi telespettatori alla prossima